ciao amici di youtube bentornati in questo nuovo video siamo di nuovo sul secondo account l'account italiano siamo arrivati come vedete dalla scenografia a Yui iniziamo ufficialmente l'arc con questo di Yui e incontreremo un po di personaggi e ci accompagneranno per questa parte della storia non vi dico altro godetevela che oggi saranno un sacco di chiacchiere ma con un sacco di personcine importanti quindi godete la fine in fondo allora amici andiamo a Yui adesso ufficialmente raggiungi il porto di Yui e ci siamo quasi ci siamo fermati qua l'altra volta in una parte che abbiamo fatto direttamente il live sul sito viola ma senza riportare anche su youtube il momento abbiamo fatto tutto il pezzetto di strada ma sbloccando il minimo indispensabile proprio giusto per arrivare da monstad qua quindi con calma siamo arrivati c'è da sbloccare anche a tutte le mappe intermedie e nel frattempo andiamo con il nostro primo ingresso ufficiale di questo account ovviamente a Yui eccoci qua a Yui arbor il porto di Yui continuiamo a andare che lì abbiamo il nostro pin abbiamo il nostro pin eccoci qua se vuoi trovare l'arco di Geo dovrai approfittare di questa opportunità è l'unica è l'unica per quest'anno ragazzi io ho già delle grandissime vibes riguardo vi giuro a questa parte perché non aspetto che questo momento da un sacco sapete quanto amo zongli quindi di conseguenza non vedo l'ora allora fortuna che venti ne ha parlato altrimenti ci saremo persi il rito di discensione ha idea di quando sarà forse oggi oppure domani messo che siamo agli e chiediamo in giro agli abitanti a proposito dell'arco indigeo morax sai che i mora che usiamo prendono il nome da questa divinità se gli stranieri usano quel nome per l'arco indigeo però vengono subito guardati male quindi dovremmo chiamarlo l'arco indigeo con il nome di rex lapis come fanno gli abitanti di lui e noi faremo così non le chiameremo detti la terra in mezzo ai monoliti capitolo 1 atto 1 parla con gli abitanti del posto intanto maniera molto furba volevo sbloccare il teleport è però è sopra quindi per il momento ci limitiamo andare a chiacchierare con i nostri amici che tanto sono tutti sopra anche loro quindi facciamo entrambi le cose ecco qua la signorina salve il rito della discensione a proposito non è oggi una volta all'anno rex lapis dona a tutti noi una premonizione divina su come si svolgerà l'anno successivo agli ue lo scorso anno l'onore di chiedere tale premonizione è toccata la yu weng delle sette stelle di ue sette stelle di ue questa paimo la sa monstrad sta alla libertà come gli ue sta ai contratti gli ue si concentra molto sugli affari e sul commercio le sette stelle di ue sono i sette leader di altrettante imprese di ue sono loro a comandare la città questo è quello che dicono sempre gli stranieri il vero controllo di ue però sarà sempre nelle mani di rex lapis le sette stelle sono semplici mortali rex lapis invece è una divinità monstrad non è una divinità la nostra invece vivrà in mezzo a noi per sempre beh che dire signorina oggettivamente la sua descrizione di della divinità di monstrad non fa una piega io sono perfettamente insomma d'accordo con la signorina restata gli ue abbastanza a lungo e capirete avete da poco lasciato una città senza dio è tempo di scoprire cosa significhi vivere in un luogo che nel corso di tutta la sua storia ha sempre accolto una divinità tra la propria gente un saluto a venti un saluto a venti che ci segue sempre con affetto ok allora qua c'è il teleport quindi vado a sbloccarlo e poi continuiamo le chiacchiere però almeno dobbiamo orientarci di qua e di là ok anche tu vuoi assistere al rito dell'ascensione la discensione io sì tutti noi non vediamo l'ora sono un uomo d'affari anche io come potrebbero interessarmi l'evento più importante di l'ue e le 17 previsioni dello scorso anno hanno lasciato il segno nel settore inoltre si dice che in linguang ovvero la tiaun kwan si attramando nell'ombra vuole che le rocce create da chi possiede una visione di geo vengano esentate dalle tasse wow una faccenda legale da veri professionisti se fossimo sempre al passo con le petizioni e le oscillazioni di mercato il porto non prospererebbe tra i sette rex lapis è la divinità più anziana le sue doti da stratega sono molto apprezzate dal suo popolo quando si tratta di arricchirsi la comprensione immediata delle premonizioni può fare la differenza a me fa ridere come veramente sembra essere a un corso di economia aziendale vi giuro mi piscio tantissimo veramente tanto anche voi visitatori venuti per il rito della discensione e dire che ho vissuto agli ue per tanti anni eppure non l'ho mai vista prima è proprio vero che chi abita in un posto che non visita mai i luoghi turistici vi auguro il meglio in viaggio lui vederà sempre benvenuto ciao samuel grazie volevamo sapere dove andare per assistere al riso della discensione non certo delle vicinanze e anche se vedessi delle indicazioni probabilmente vi perdereste meglio raggiungere il bel vedere di yunjing per avere una visione dall'alto è il luogo più elevato dal porto quindi il più adatto a comunicare con le debilità giusto grazie amico vabbè ci hanno dato un po di info vai al bel vedere e noi ci andiamo subito ecco la strada comunque possiamo ammirare la bellezza di yue ovviamente per chi è la prima volta che vede yue magari tramite appunto questa serie yue ovviamente è la regione geo che va a rappresentare la cultura cinese infatti la riconosciamo in tantissimi elementi dalle singole pagode gli edifici le strutture di tutto ponti questi percorsi in mezzo all'acqua è molto bella è molto molto bella di me se monstat poteva essere una qualsiasi città europea una città tedesca la città della francia appunto nelle zone della bretagna e normandia yue non lascia dubbio cioè lui è proprio una rappresentazione di una cina appunto un po indietro nei secoli bella molto bella ed eccoci qua prega ed esprime un desiderio al belvedere di yunjig ok andiamo alto là chi non è direttamente coinvolto la cerimonia non può avanzare oltre ma questa feste quindi dobbiamo stare attenti dobbiamo passare da dietro andiamo ciao toforo andiamo 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 mettiamo l'incenso oh anche voi vorreste un po di fortuna dagli adepti sapete un sacco di cose esprimere un desiderio in questo periodo garantisce la benedizione degli adepti di rex lapis ho già espresso il mio desiderio quindi ora tocca a voi che bello grazie spero di poter trovare più presto mia sorella e una andiamo anche all'altra bello questo momento poi è letteralmente una vita ovviamente che non faccio questa parte qua perché è una parte di storia una volta che l'hai fatta non la rifai più bella rivederla adesso mettiamo l'incenso anche qua visitate gli ue per la prima volta a dire il vero nemmeno io sono mai assistito al ritro della discensione o guardate è la signorina ninguang delle sette stelle di ue e questa prima volta vediamo ninguang solo chi governa gli ue può offrire il ritro della discensione a non so se lo sapevate ma la maggior parte degli adepti apparirà con fattezze animali si dice che in occasioni formali come questa l'aspetto di rex lapis sia un celestiale incrocio tra due creature mitiche di lue mi spiace non avrei dovuto interrompervi fate pure mi piacerebbe ricevere degli indizi grandioso ora che abbiamo finito con i desideri possiamo aspettare che la cerimonia inizi chissà quanto tempo ci metterà quella signorina ninguang unisciti alla folla e aspetta che inizi il rito e noi lo facciamo subito guarda quanta gente dobbiamo raggiungere la prima fila non si vede nulla da qui sì nel mezzo quelli che pogano ai concerti praticamente mamma mia ragazzi è giunta l'ora che meraviglia ragazzi io completamente dimenticata di questi cinemati che è passato troppo tempo che bello rivederle vi giuro che bello rivederle questo pagliaccio questo nonno pagliaccio vi giuro rex lapis è stato ucciso bloccate le uscite e vi giuro quell'uomo mi spezza non ce la posso fare cioè penso a lui e dico ma cosa sta succedendo ha davvero detto che rex lapis è l'arcondigeo è morto oh no i milleliti sembra che stiano catturando i sospetti che si sono avvicinati troppo paimon ha tanta paura l'assassino è tra di noi anche noi eravamo nelle vicinanze quindi oh sospettano di noi aspetta dove vai non posso farmi catturare ah ma quello mi vedeva aspetta ma non mi ricordavo ma c'è tutto questo stealth all'inizio non mi ricordavo non mi ricordavo ci fosse tutto questo stealth sinceramente vediamo da dove possiamo passare ce ne sono tantissimi letteralmente vi ha visto non so da dove passare è veramente pieno è veramente pieno di tipi o passo sui tetti vai eater penso che passerò sui tetti se si può fare se eater ce la fa a camminare penso che passerò di qua grazie per la cesta è stata alternativa ragazzi ciao Elena eccoci è stata alternativa ciao Spina ah era questo il momento che stavo aspettando io mi sa era questo il momento allora qui io ve lo dico poi lo sapete che non ho una grande simpatia per Childe ma qui ho sentito un'attrazione per Childe lo devo dire quando ha tirato fuori le doppie lame ho detto ah ah salve qui l'ho detto le doppie lame mi hanno colpita molto poi me ne esausta sono a terra non sei molto gentile non hai idea di quanto sia stancante frutto eh ma chi sei chiamatemi pure principe ti chiamerò Childe io mi dispiace bro ma chiamarti principe penso sia delle cose più cringe che io abbia mai sentito chiamatemi pure Childe Childe umile molto dobbiamo fare la riverenza o qualcosa del genere per caso ah ma no è solo soprannome per caso a Mostad vi siete imbattuti in una tale signora la tocca pianissimo signora principe sei De Fatui uno dei messaggeri eh sì non preoccuparti non cerco lo scontro signora non ha lasciato bei ricordi eh beh neanche a me sta molto simpatica ma sì dimentichiamoci di lei che ne dite sono qui per aiutarvi aiutarci sì aiutarvi non sono cattivo cioè in un certo senso forse ma non ho intenzione di darvi ironie posso chiederti almeno di chitenere la spada nel fodero attrezzo la tua cavallerisca nobiltà grazie bro ho saputo dalle tue imprese a Mostad e per forza di cose si è notato durante la cerimonia ti ho tenuto gli occhi addosso per tutto il tempo quindi so che il crimine non l'hai commesso come tu ma qualcun altro però sai com'è sono un ambasciatore dei Fatui di Nannaia non si fiderebbero mai di me dopo una circostanza tanto grave le sette stelle di Yui in cerca hanno da sempre dei sospetti infondati su di noi puoi davvero viasimarli? probabilmente no avete ragione mantenere una certa distanza tra i strani è preferibile tanto ormai ci sono abituato ora però per dimostrare la vostra completa innocenza dovete recarvi alla Bianca Banca del Nord restare qui non è un'opzione come receta un detto di Yui anche i muri hanno le orecchie che poi è di Yui l'hanno inventato loro capito? l'hanno inventato loro il detto prendiamoci subito la ricompensina a me che grazie per il foglio ben arrivato Child falle se mente un Lannister invece che alla Banca del Nord alla Banca di Ferro andiamo sopra piano sopra morta morta ok eppure un po' un po' biondicio rossiccio potrebbe esserlo veramente un Lannister la Banca del Nord esatto si tratta di una banca di Genzaia che ha una filiale qui a Yui tutti sanno che a Yui è la capitale economica di Teivat ma anche Genzaia non se la cava male beh di solito le regioni più povere non mandano i problematici che si comportano come i vostri verso i cavalieri di Favonius se la spezza lui lasciate che vi dia questo grazie cosa è un non lo so con esattezza a volte il denaro può comprare l'oggetto ma non so il nome l'unica certezza è che si tratta di un sigillo in grado di tenervi al sicuro dai potenti e illuminati adepti adepti andando a nord del porto o proseguendo poi a ovest delle pianure di Guili raggiungerete una foresta di pietra chiamata i monti di Junmune secondo gli elebretanti di Ue è lì che risiedono gli adepti ma non è solo una leggenda forse lo è ma ci credono sul serio infatti lasciano le offerte per gli adepti al confine nessuno osa avventurarsi laggiù per me non si tratta di credere o meno dal momento che so che con certezza che gli adepti esistono è brutto ammetterlo ma le informazioni dei fatui sembrano corrette però perché dovremmo cercare gli adepti eh cara mia i mortali desiderano la benedizione degli adepti per sbagliati motivi denaro buona salute amore voi invece chiedereste solo giustizia giustizia? le sette stelle avranno già sguinzagliato i mille eliti cercheranno l'assassino sui presenti ma come può un mortale uccidere un dio capace di spazzare via interi eserciti Rex Lapis non ha mai rinunciato i suoi poteri divini una reazione tanto violenta deve essere desproporzionata che strano credi che siano state le sette stelle che vogliono incolpare qualcun altro? un pensiero ancora più estremo del mio cavaliere onorario al momento la banca del nord non sarebbe in grado di tenere occupati a lungo i mille eliti ma gli adepti potrebbero scacionarvi gli ue è stata fondata ovviamente con la forza dall'arco indigeo e dagli adepti trovateli prima che gli inviatati delle sette stelle li raggiungano così la prima versione che sentiranno sarà la vostra in tutta gli ue sono solo loro aiutarvi adesso sono i potenti e i illuminati adepti grazie grazie di queste informazioni molto importanti ci ha dato il sigillo del consenso e dobbiamo andare agli adepti ai monti di Joen Yun si fa un po' di strada ora ciao Nejiro e buona serata che bella la cinematic di coso di Zhongli che si schianta sul tavolo me l'ero completamente dimenticata completamente via che cosa ho avevo visto c'era la posta ah grazie molto gentile mi ero completamente dimenticata di quando si schiantava al suolo già si sapevo che succedeva ma il modo in cui succedeva l'avevo completamente rimosso ora io penso di avere un teleport sicuramente che ci avvicina dove dobbiamo andare anche perché qua stiamo andando in farmacia praticamente e non c'è nessuno in questo momento che ci interessa in farmacia quindi fammi vedere il teleport eh da qui è già più vicino poi dovremmo tagliare un po' qua nel mezzo anzi se facessi qui e andassi prima di qua potrebbero essere dell'idea interessante naida nova calisi no la calisi la calisi la faccio io andiamo aspetta fare un po' di strada ma voglio sbloccarle queste mappe ora mi affoga Jin mi sento male vi giuro andiamo un attimo lassù questa parte non sbloccata di mappa mi mette tristezza si sblocchiamo un po' la mappa allora oh che bello tante challenge da fare un'intera regione da 100% oddio mi ricordo questa erano tutti sulle cose dovevo colpirli a distanza un fastidio ok saliamo sul ponticino yes let's go let's go le casse esatto visto che io tutto al 100% gli vedo una vita proprio bisogno di farmare un po' salve di cosa non sei convinta ti vedo convinta ok procediamo di qua tutta questa strada per arrivare là sopra vedete c'è una torre di quelle di monstad che servono per sbloccare appunto le aree di mappa proprio visibili poi ci sono tutti i vari teleport intermedi tipo questo che vedete qua che ci servirà proprio per spostarci in maniera più intelligente però questa conviene perché se no non abbiamo proprio visione su questa parte di mappa a piccoli passi arriviamo in cima adesso anche perché io ho poca stamina quindi a piccoli piccoli passi niente ok ok allora lo fai inteso ce la possiamo farcela sì ce la possiamo farcela di qua di qua in realtà siamo quasi arrivati è lì sopra poi la cosa buona di di l'u-e in questo qua in questa comunque questa zona è che è tutto arroccato a scalini come se fossero gli scalini giganti come le piramidi quindi alla fine anche la stamina la rigeneri bene perché salti 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 ma ti riposo in continuazione qua 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 eccoci ci siamo eh eccolo lì sembrava molto più lontano ma in realtà appunto visto che uno riesce a scalare le montagne con questa tranquillità è molto meno pesante di quello che sembra questo qui non ci arrivo invece sì yes sto arrivando torre sto arrivando yes eccoci qua boom il mondo si apre davanti a chi possiede un cuore nobile almeno vediamo le pianure siamo alle pianure di ghile adesso dobbiamo andare di qua però intanto almeno vediamo quest'area ora possiamo tornare di qua ah sì finiamo la conversazione e poi andiamo dai almeno vediamo dove eravamo era bruttissimo quel coso nel mezzo poi metterò a fare un po' di caccia di di geoculus ovviamente perfetto possiamo andare qui e adesso proseguiamo tutto in quest'altra direzione e andiamo al punto che ci è stato indicato una cesta e se troviamo ovviamente dei teleport per strada li sblocchiamo e intanto si accumulano prime anche perché io devo decidere che cosa verrà pullato su questo account quanto è come il prossimo tentativo e siamo intorno a pt quasi 50 nel banner evento e la prossima parte di patch non lo trovo comunque utile perché vabbè in questa no sense perché nessuno dei due è un personaggio veramente fondamentale nella prossima parte Ayaka è un dramma ah ecco Giorgia me lo stavi chiedendo ciao PDG bentornato stiamo facendo la parte di italiano e vi dicevo appunto su quest'accanto secondo me dati i banner che sappiamo che arrivano quindi Ayaka e Scenet purtroppo non vale la pena effettivamente pullarle perché comunque devo fare tutta l'arco con questa di Monstad prima di cioè per quanto Ayaka sia probabilmente uno dei personaggi più sgravi che ci sia diventa un casino mentre per quanto riguarda la 3.6 bisognerà vedere come sono questo Baizu e questo Cave e vedere quali saranno nel rank con loro per decidere insomma staremo staremo un po' a vedere ragazzi staremo un po' a vedere via via intanto procediamo Usao sarebbe stata molto buona per iniziare però purtroppo quelle pull avevamo abbiamo fatto il nostro meglio non c'è uscita come minimo esce di Luke perdendo il 50 e 50 anche su quest'account sarebbe abbastanza un meme vi dirò che sarebbe abbastanza un meme sinceramente ma guardate qua siamo all'inizio siamo all'inizio quindi al di là di tutto per quanto sarebbe tipo allo stesso tempo vi direi non è male perché all'inizio se uno perde il 50 e 50 chiunque trova può in qualche modo tornargli utile perché non hai 5 stelle il problema è aver pullato nel mio account principale il mio primo D. Luke che ero già a R minimo 55 avevo già pullato altri personaggi pyro che mi piacevano di più come Usao e non me le sono filata proprio di di niente ci fosse stata Eula potevi dare una possibilità Eula l'avrei schippata lo so mare mio Esther che tu ami Eula ma io Eula l'avrei schippata perché non mi piacciono le Claymore quindi la prenderei una Claymore solo se fossi costretta quindi appunto se mi esce purtroppo D. Luke o mi esce Deia perdendo il 50 e 50 però non l'avrei se ci fosse stata come opzione non l'avrei pullata avrei detto no prendo qualcun altro piuttosto no di qua non ci passo di qua possiamo iniziare a salire invece però sappi che la mia Eula sul account principale è buildata abbastanza bene è il mio limite che non è purtroppo nel mio genere di gameplay un giorno arriverà un giorno nel quale utilizzerò delle Claymore Chikes Legend dopo un pomeriggio le utilizzerò un giorno arriverà non te l'ho mai visto usare e ho dovuto faticare perché voglio ricordare alla signorina Betta che abbiamo fatto le pulle che lei era su Discord con me e e c'è stato il famoso Edz in chat di Gabri e io gli dissi Edz un tuo perché la trovai a PT76 quindi dramma totale la trovai a PT76 e lì ero completamente free to play quindi non avevo con quello che avevo farmato mi uscì tipo all'ultima singola il meme divertente che però avevo vinto il 50 e 50 ma era talmente triste moralmente il fatto che eravamo a PT76 e avevo usato tutte le prime jeans che avevo per un personaggio che mi piaceva relativamente però Eula è stato l'inizio di una grandissima cosa perché Eula è stato un personaggio che io ho pullato perché mi piaceva l'idea di pullarlo senza sapere ovviamente se arrivava dopo però da Eula da Eula in poi non ho saltato un banner cioè è stata subito dopo la rerun di Klee e la rerun di Klee l'ho presa poi è arrivato caso eccetera eccetera quindi diciamo che Eula è stato il segno dell'inizio del mio non saltare più un banner di Genshin quindi l'inizio diciamo anche della nascita di tutta questa grandissima community di Genshin che siamo qua è nata molto da quel momento lì ragazzi sì sì questi non li ammazzano mai letteralmente perché poi senza fare nomi Arce e Christian senza fare nomi hanno iniziato a fare un po' di mattate e se avevo bisogno di un'aiutina per riempire i banner senza fare nomi Arce e Christian facevano cose senza fare nomi ovviamente non mi ricordo chi erano Arce e Christian però insomma vi assicuro che molto è stato merito loro i primi banner totalmente merito loro no senza nominare nessuno senza nominare nessuno nessuno in particolare comunque non è che odio le Claymore non mi piacciono nel senso che se devo scegliere chi utilizzare in un team l'ultimo personaggio che metterei è sicuramente una Claymore ma proprio qualsiasi le Claymore se ci fate caso che mi piacciono di più proprio sono proprio quelle che sono in realtà le più rapide quindi un itto che di per sé lo giochi ultando e la ulti lo rende più rapido e sinceramente a me il gameplay di Deia mi sa poco di Claymore perché tiro la E e quando tira i pugni non ha niente a che vedere con la Claymore quindi Deia per me non è una Claymore è svincolata quindi la Claymore intesa come Claymore Chongyun Noelle la stessa Eula Shinyan Beidou per quanto alcuni di questi personaggi il loro gameplay ora sono la finite cinghiali veramente mi piaccia da morire tipo quello di Beidou a me piace molto quello shield eletto è una figata micidiale per respingere i colpi però 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 è una Claymore di look non lo commento nemmeno il look proprio non lo commento nemmeno non so se ce la faccio forse se mi fermo lì sì no a me piacciono i gameplay rapidi infatti i miei preferiti in assoluto probabilmente più di tutti sono le Polharm le Polharm sono veloci sono dinamiche e le spade Blade e Polharm sono le mie preferite spade e Polharm ma sì esatto un po' come chi predilige gli archi un po' come chi predilige gli archi gli archi per me sono divertenti però anche lì ho delle preferenze vi dico onestamente preferisco gli archi che non sfruttano il caricato cioè preferisco una Yoimiya ad una Ganyu lo stare lì a tenere il caricato mi annoia invece Yoimiya che inizia a sparare frecciate a manetta mi piace molto l'arco mi cambia totalmente il gameplay se è un arco che sfrutta il caricato o non lo sfrutta proprio è come se fossero due persone differenti letteralmente come se fossero due armi differenti i Catalyst stesso discorso mi piacciono però preferisco quelli che non si sfrutta il caricato nonostante Ian Fey io la adori come Catalyst tantissimo però 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 se devo scegliere preferisco usare l'attacco base pum 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 sfruttare colpi a manetta Yoimiya è troppo carina è troppo divertente veramente tantissimo Artemis tre live di fila che bello e ciao Phoenix tutto molto bene ora siamo sull'account secondario stiamo facendo un po' di arco in questo stiamo arrivando dagli adepti e nel frattempo abbiamo fatto anche l'evento di Monster l'abbiamo un po' farmato per Deya per portare la 90 l'arma che verrà portata la 90 teoricamente da una cosa o un'altra domani se riesco forse addirittura stasera dipende appunto devo andare a farmare i cosi della heli però non mi basta quindi penso lo farò domani o se è domani lo faccio direttamente mercoledì live comunque ci siamo eccoci qua eccoci arrivati ai monti dove siamo stati indirizzati che bello e voi chi siete? come osate attraversare i monti di Juanyun? mi hanno mandato qui no così sembra che ci hanno spediti a casa raccontiamo tutto un sigillo del consenso era da tempo in memoria che costui non vedeva un oggetto del genere siete al cospetto del potente e illuminato adepto scultore della luna cosa vi porta qua? a dire il vero è l'assassino fuggire proprio qua sui monti di Juanyun dopo il delitto quale affronto? signore ci siamo addestrati troppo oltre tra i monti di Juanyun dannazione non abbiamo altra scelta la sua cattura è la nostra priorità dobbiamo continuare disturbando i nostri confini fate in modo che non sia più così costui non vuole avere interruzioni oh via andiamo a menare questi svitati noi non c'entriamo niente siamo qui per caso guardate che belle guardate che belli i personaggi starter ho ancora Amber come personaggio del team perché non ho un pyro rendiamoci conto come sto messa e nonostante ciò Amber sta spaccando tutto vabbè Fischl è fortissima lo sapete Fischl è sempre stata fortissima poi Amber ha letteralmente dato fuoco a tutto il campus degli adepti cioè veramente gli faranno pagare il conto probabilmente poi da come rimbalzano colpiti da Oz con l'esplosione cioè vi giuro sta fanno troppo ridere guarda esplodono è stato bellissimo torniamo a noi a cosa è dovuta la tua visita viaggiatore beh racconto falsità falsità le sette stelle di Lua si sono rivelate un'autentica delusione assassinare Rex Lapis durante il rito della discensione per poi accusare qualcuno tra la folla viaggiatore costui comprende che cose delle gravi accuse sono state mosse conto di te la risposta appare chiara ma va sottoposta ad altruivaglio affinché non ci sia spazio per errori ora va prendi il sigilio del consenso e porta con te un messaggio dove devo andare qui troverai forma montagne e vestale delle nuvole solo il destino deciderà se ti imbatterà in loro solo il destino visita la locanda Wang Shu laggiù troverai conquista demoni un guardiano Yaksha un conquista demoni a caso uno a caso non mi viene proprio in mente nessuno in questo momento chi potrebbe essere questo qua io vorrei andare lassù a sbloccare le cose però è un po' un casino non so se riusciamo perché visto che siamo qua e l'ultimo teleport l'ho sbloccato qua per sbloccare l'area a parte perché comunque devo continuare per queste strade quindi forse la cosa migliore è salire in cima a questa montagna a sbloccare tutta l'area e poi procedere anche se dobbiamo fare ancora saltelli e saltelli però è là dobbiamo farlo ragazzi se no qua non ci riusciamo ad orientare vorrei sapere come ho fatto la prima volta sicuramente avevo più stamina perché avevo raccolto più anemopulus però in generale non sono scarpeate facili per chi comunque ha una stamina limitata perché qui comunque non ce l'hai ancora maxata tipo qua un grande rischio uh meno male proseguiamo 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 laniamo davanti è tutto arroccato raga perché noi dobbiamo andare là è un po' un casino però non è impossibile da solo capire come dobbiamo andare su quella montagna là e planare perché di qua per quanto vorrei di poco non ci arriviamo però planando da lì ci arriviamo tranquillamente ora dobbiamo soltanto arrivare lì sopra che non so se ce la facciamo appelissimo ma guardate voi che casino bisogna fare ok però ci siamo abbiamo quest'ultimo pezzo da fare che è abbastanza scosceso però potremmo mi sento uno stambecco feeling like stambecco let's go di qua in cima ok e di qua ciao sinics ed eccoci qua ah faticoso ma ci siamo e ora possiamo andare qui ottimo ecco eccola qua ragazzi fatto il mondo si apre davanti a chi possiede un cuore nobile almeno vediamo effettivamente dove andare ragazzi cioè mi sembra che sia stata un'ottima idea questa da sbloccare tutti i teleport quindi ottimo ottimo perfetto tutta colpa quella sempre è sempre colpa di albi dobbiamo andare lì quindi giriamoci dal lato giusto e planiamo mi divertirò vai in questi giorni a sbloccare tutti questi teleport mi divertirò proprio credo tutte le challenge ciao sebastian welcome back io direi che andiamo da forma montagne facciamo il pezzetto di speech con lui e poi ci fermiamo anche perché dobbiamo andare là su quindi sarà divertente ci arrampichiamo da lì quella stata che io faccio in discesa la facciamo in salita a sto giro no la sfida adesso non la faccio andiamo direttamente qua questa stata che io faccio in discesa per raccogliere i core lapis tutta questa in realtà la faccio dall'alto scendendo fino a più o meno a questa altezza dove i core lapis finiscono la faccio al contrario ora france ma scusatemi ragazzi in chat quando mai non è stata colpa di alberto se sai quale pg potrebbe avere una rerun nella 3.6 personalmente magari visto che siamo stati scammati con con il fatto delle quattro stelle dedicato ad eula e ad albedo nella presentazione magari ce li ficcano nella 3.6 per dire ve li diamo ora potrebbe essere un'idea a proposito visto che stiamo facendo la quest di zongli scusatemi un attimo ecco ora mi sento a mio agio mettiamolo qua accanto al posto della scritta deia oh eccoci qua il marito è qua con noi no naida non si sa niente ma c'è stata ora ci vorrà un po' andiamo ci siamo quasi alla fine siamo arrivati abbastanza velocemente in cima perché questa strada la conosco bene la faccio tuttora per raccogliere i corlapis non mi ricordo con chi l'ho fatta ah sì nell'accanto di Simone non nel mio ecco quando sono andata a raccogliere i corlapis che è quella disgrazia umana di nome Simone che in realtà era debuto due mesi fa però l'accanto non era il mio ti avevo farmato per l'apis un paio di volte mentre te non avevi voglia o te l'avevo portato a giro e ti dicevo raccoglili qui ce ne sono quattro lì al muro ce n'è uno lassù ce ne sono altri quattro ed eccoci qua senti mentre te sei a riflettere un attimo sul valore della vita io sbloccherei anche il teleport così non lo dobbiamo sbloccare dopo che dici potrei rifarlo? pagami lo faccio fammelo segnare così almeno quello poi lo segno sulla mappa ed eccolo lì il teleport e qui ci siamo ta abbi pietà prodadeptus ti supplico abbi pietà di me di mio fratello risparmia le nostre vite cos'è successo? chi siete? cosa sta succedendo? te l'abbiamo chiesto prima noi avete attraversato in collo i monti di Joen-Yoon il che significa solo una cosa siete portavoce degli adepti che vi hanno mandati a salvare me e mio fratello ma che dice? abbiate pietà potenti portavoce degli adepti illuminati vi supplico salvateci io e mio fratello siamo venuti qui solo per rimediare alla povertà della nostra famiglia si dice che ci siamo tesori nascosti nell'ambra del monte Alao siamo stati sciocchi ma volevamo trovare qualche tesoro da vendere per sfamare i nostri cari abbiamo risalito il sentiero su per le montagne ma poi l'ambra ha inghiottito mio fratello dei dang fuggendo sono arrivato qui e ho capito che avevamo violato il territorio degli adepti e questa era la nostra punizione non sapevo come salvare mio fratello quindi ho cominciato a pregare gli adepti finché avesse la pietà e ora finalmente due portavoce giungono il mio soccorso portavoce no ti sbagli anche noi cerchiamo gli adepti no ditemi che siete portavoce gli adepti vi prego non so quale ambra l'abbia preso dovete salvarlo vi imploro mi appello alla carità degli adepti va bene vado a vedere grazie grazie potenti portavoce gli adepti giuro che non commetteremo mai più una simile sciocchezza ma guardate questo adesso andrà a distruggere sti robi affinché da uno mi esca lui no non era tipo una cosa del genere lungo la strada a un certo punto ce n'è uno bisogna far così a un certo punto esce qualcosa io cito uno slime non me lo ricordavo quel soggetto ma anche perché avendo letto tutto in inglese me lo sono goduta relativamente quindi mi viene da ridere ah vediamo un po' o quanto parli Paimon Jin distrugge cosi d'ambra con l'unico tentativo di salvare un fratello intrappolato qui c'era il cinghiale no c'è l'idanga eccolo qua cosa è successo mi avete salvato grazie avete visto mio fratello l'idanga l'idanga i nomi mi fanno pisciare non me li ricordavo era con me stavamo scalando la montagna spero solo che l'ambra non l'abbia ingottita anche a lui è lui che ci ha andato a cercarti quindi è salvo grazie adesso lo raggiungerò sperando di non imbattermi in un'altra ambra andiamo parla con l'idanga l'idanga ciao anton un saluto che sono tornata dall'università ciao come va tutto bene salve bros loro letteralmente sono i bros in coppia grazie per aver salvato mio fratello potenti portavoce degli adepti illuminati cosa? no come altri anche io ho sentito dire che ce n'è uno che vive sul montulao ma non credo che si messerebbe a persone come me proprio per nulla per voi la cosa è diversa siete portavoce degli adepti ancora ad ogni modo penso che abbiamo sostato fin troppo nel regno degli adeptus andiamo grazie potenti portavoce degli adepti grazie portavoce ora veramente mi sento mi risveglio risvegliandomi cavoli sarebbe davvero utile essere portavoce degli adepti sembra che questo adeptus abbia qualche problema di gestione della rabbia noi non abbiamo fatto niente di male dobbiamo passare la liscia oh vai chi osa violare i miei confini salve 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 signora gru stupidi mortali fatevi avanti e ricevete la vostra punizione io direi che ci fermiamo così mi sembra perfetto con il plasmatore delle montagne che ci attende mi sembra il momento perfetto per chiudere questa parte così così che poi faccio farmi in questi giorni esploro un po' e poi torniamo qui a menare il tipo mi sembra proprio perfetto fatemi fare soltanto un check un attimo non dovrei aver posso farvi una singola no non vi posso fare nessuna singola in realtà no così vi lascio con la suspense vi lascio con la suspense del prossimo episodio Gina raccoglie dandelion mentre qua piovono foglie appunto di altri tipi di alberi però va bene allora io direi che per la parte questa qua intanto continuiamo è tutto oggi uscirà sul youtube appunto sabato quindi chi la sta guardando in questo momento la vedrà sabato su youtube con il vostro commentario in sottofondo chi invece la sta recuperando su youtube spero vi sia piaciuta mi raccomando iscrivetevi al canale passate sul sito viola dove guardiamo tutto in diretta seguite i miei suoi ultimi vari social vi aspettiamo io vi ringrazio per essere stati qua con noi e ci vediamo nella prossima parte ciao 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 ciao